Per valorizzare una voce tipo la mia, penso che una canzone adatta sia Sixteen Tones perché comunque sta su quelle note che comunque non si sentono sempre. Ormai siamo abituati a cantanti e stanno in alto. Facciamo scendere un po' queste cose. Allora faccio qualcosa, dai. Soltanto faccio la prima strota se mi viene, dai, vanno. Soltanto faccio la prima volta.